Buongiorno e benvenuti alla settantunesima puntata delle colonne d'Ercole. Storie, aneddoti, veri miti e false leggende del mondo delle colonne sonore. Allora, oggi per la serie Anche i ricchi piangono, ci accremmo di capire come è possibile che uno dei più grandi compositori della storia di questo genere, della storia delle colonne sonore, cioè John Barry, Mr. 5 Oscar, tanto per capirci, sia stato così sprovveduto da sbagliare non uno ma ben due film nel corso dello stesso anno. Oggi parliamo del 1986, l'Annus Horribilis di John Barry. Allora, John Barry a metà dell'inizio 80 è veramente uno dei più grossi nomi che ci siano sulla scena e lo è da almeno vent'anni, cioè da quando praticamente nel 1962 è diventato famoso in tutto il mondo arrangiando il famoso James Bond theme e poi cominciando a essere il compositore principale di tutta la serie di film di James Bond. 1985, c'è l'anno precedente, all'Annus Horribilis, è un anno ottimo, eccellente, nel quale John Barry scrive tre colonne sonore, una più azzeccata dell'altra. La prima è doppio taglio con Glenn Close e Jeff Bridge, un thriller che se non l'avete visto vi consiglio assolutamente. Poi scrive la colonne sonora dell'ennesimo film di 007, A View to a Kill, che il cui dito italiano sarà Versaglio Mobile, e poi una cosettina come La mia Africa, quel quale vince l'Oscar. È quindi un compositore veramente sulla cresta dell'onda. Nel 1986 invece scrive quattro score, che sono A Killing Affair, un film che non resterà particolarmente negli annali. Poi Peggy Sue si è sposata, con la regia di Francis Ford Coppola, un buon progetto. E poi in anella due capitomboli, uno dietro l'altro. La prima score che sbaglia clamorosamente è Il Bambino d'Oro, The Golden Child. È la storia un po' bislacca di un investigatore privato che viene assoldato per trovare un bambino in Tibet, un bambino con poteri straordinari, che è prigioniero di un demone. Quindi al netto della storia, che già sembra esattamente non particolarmente accattivante, John Barry però ci mette un pochettino del suo. Forse però la colpa non è completamente sua. Considerate che il regista che era stato previsto per questo film era niente poco di meno che John Carpenter e il protagonista era Mel Gibson. E probabilmente con la regia di Carpenter e la recitazione di Gibson, probabilmente, anzi sicuramente il film sarebbe stato completamente diverso. Ma John Carpenter è occupato in un altro progetto e Mel Gibson declina l'offerta. Viene quindi chiamato Eddie Murphy, che nella metà degli anni Ottanta è l'attore più pagato di Hollywood. Ha inanellato una serie di successi clamorosi ed è veramente un grosso, grosso nome. Quindi anch'io probabilmente se fossi stato nei panni di John Barry avrei detto beh, progetto serio questo. Il problema principale è che la presenza di Eddie Murphy pone un serio problema sull'identità del film. Ovvero sia non si capisce bene che cosa sia questo film. Non si capisce bene se è una commedia, è un fantasy, è una detective story o è solo banalmente un qualunque veicolo per Eddie Murphy che se non aumento più alto la sua carriera avrebbe potuto fare qualunque cosa. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che ovviamente Eddie Murphy aggiunge molto della propria improvvisazione al copione e quindi in qualche maniera il copione viene stravolto. In più un altro piccolo piccolo problema, il regista Michael Ritchie non è presente durante la post-produzione del film quindi durante il missaggio, durante la registrazione della colonna sonora e un regista non può non essere presente in tutte le fasi del film. John Barry quindi registra la sua colonna sonora a Londra con la London Symphony come sempre in cinque turni di registrazione. E tutto sommato fa bene il suo lavoro nel senso che tutta la parte avventurosa del film è molto centrata, è molto giusta. Che cosa sbaglia clamorosamente? Sbaglia clamorosamente la presenza di Eddie Murphy, cioè la parte commedia, la parte addirittura comica. È per questo che i produttori non sono per niente contenti della score e ci vedono una musica che è troppo Indiana Jones ma non abbastanza comico o non abbastanza commedia per giustificare la presenza di Eddie Murphy. Viene quindi chiesto a Michel Colombier di riscrivere la score e Colombier in due settimane ce la fa scrivendo una score principalmente con i siti tettizzatori più alcuni strumenti a fiato e percussivi che riportano all'Oriente e quindi appunto al Tibet. Come risultato la maggior parte della score di John Barry viene tolta dal film ma non viene rifiutata per cui sul film abbiamo sia la musica di John Barry che quella di Michel Colombier il problema principale è che le due musiche fanno veramente appugni l'una con l'altra e quindi al netto di ogni giudizio cinematografico sul film la parte musicale proprio come si dice usando un neologismo non matcha ma se la trama di questo film vi sembrava bislacca nulla è in confronto a quella del secondo film di cui parliamo oggi sempre musicato da John Barry nel 1986 Howard e il destino del mondo questo è il problema principale di quando si porta sul grande schermo un personaggio che nasce dai fumetti tante cose sui fumetti sono accettabili e sono anzi possono risultare anche divertenti possono risultare riuscite ma quasi mai la trasposizione cinematografica o meglio la trasposizione in un qualcosa che sia in carne e ossa è efficace Aura tra l'altro è un personaggio della Marvel anzi è il primo personaggio della Marvel che viene portato sul grande schermo tutti i personaggi precedenti erano stati portati in serie televisive il progetto ha 36 milioni di budget quindi nel 1986 un ottimo budget e il produttore esecutivo è un certo George Lucas avete presente Guerra Stellari il film però è veramente brutto non lo dico io che non avrei alcuna autorità per dirlo ma lo dice il fatto che viene nominato ai Razzie Awards per chi non lo sapesse i Razzie Awards sono l'opposto degli Oscar cioè se negli Oscar vengono votate le categorie per miglior film miglior sceneggiatura, miglior attore, miglior produzione, miglior colonna sonora eccetera eccetera nei Razzie Awards vengono votate le peggiori categorie Howard Duck in versione italiana Howard l'estima del mondo riceve ben 7 nomination ai Razzie Awards e ne porta a casa 4 nello specifico peggior film quindi l'equivalente dell'Oscar in negativo peggior esordiente, peggiori effetti visivi e peggior sceneggiatura una debacle che si tradurrà ovviamente in recensioni disastrose e poi alla fin fine il film incasserà giusto giusto la cifra che servirà ai produttori per coprire le spese ovviamente era in programma un prequel e un sequel che vengono immediatamente cancellati dai progetti futuri della produzione passiamo invece ora alla score di John Barry per questo film John Barry è un fuoriclasse indubbiamente e la musica che scrive non può essere musica brutta però come dire nelle tante cose che vanno storti in questo film anche la colonna sonora viene presa dentro allora qual è la dinamica che succede spesso in queste situazioni di cui i compositori non solo non sono responsabili ma anzi spesso sono vittime quando un film risulta non particolarmente riuscito si cerca di porre delle pezze con la musica sperando che la musica possa coprire le magagne del regista del montatore e spesso degli attori e degli sceneggiatori a volte la musica riesce in questo miracolo ma appunto non per niente lo definisco miracolo perché invece in tanti casi non ci riesce perché se una cosa è brutta sì la possiamo abbellire finché vogliamo ma difficilmente verrà fuori un capolavoro da un film brutto dal punto di vista cinematografico quindi i produttori evidentemente non si sentono abbastanza tutelati dalla score che scrive John Barry e quindi chiedono a Sylvester Levi di scrivere delle additional music le additional music le abbiamo parlato molte altre volte sono quando si chiede a un compositore che non è quello che firma la colonna sonora di scrivere delle musiche addizionali che vanno a coprire una parte minore delle scene il 90% della colonna sonora è scritta diciamo così dal titolare della colonna sonora magari il 5, il 6, il 10% è scritto dall'additional composer però se andiamo a vedere le musiche che ci sono sul film troveremo 26 tracce solo 9 sono scritte da John Barry e ben 15 scritte da Sylvester Levi alla faccia dell'additional music detto in altri termini le additional music sono molte di più delle musiche che ha scritto il compositore ufficiale in più per un compositore del livello di John Barry avere un additional composer non è già di per sé bello in assoluto figuriamoci quando poi le musiche scrive l'additional composer sono molti più di quelle che hai scritto tu quindi ben due volte nel 1986 John Barry sbaglia tra virgolette il film che sceglie e si ritrova sia in un film sia nell'altro nella situazione che la sua musica venga sostituita da quella scritta da un altro compositore bene giunti a questo punto della narrazione credo che sia il momento giusto di rispondere a due domande che spesso mi fanno gli allievi o che spesso sulle chat o su facebook mi vengono fatte ma il compositore quando riceve il film per cui dovrà scrivere ancora una sonora si rende subito conto se è una b***a o no? due quanto influisce sbagliare uno o più score nella carriera di un compositore? la risposta alla prima domanda ovviamente è sì è un compositore soprattutto se ha una certa esperienza vede subito se il film che sta musicando è un buon film o un cattivo film vede subito la qualità della cinematografia del film la qualità del montaggio la qualità della recitazione e anche degli effetti speciali insomma di tutta una serie di altri parametri che sicuramente tiene in considerazione non solo molte volte è il regista stesso se è un professionista ed è intellettualmente onesto che dice al compositore guarda che in questa scena abbiamo qualche problemino vediamo se riusciamo a metterci una pezza per cui stante questa premessa potremmo dirci ma allora perché un compositore soprattutto se un compositore famoso non rifiuta certi progetti le ragioni sono tante possono essere contrattuali possono essere di amicizia col produttore o col regista possono essere molte volte sono dei pacchetti di film per cui sì ti faccio fare il prossimo tu però risolvimi il problema con questo insomma ci sono tante ragioni però la risposta alla domanda è sì il compositore appena vede il film si rende immediatamente conto se è un buon film o un cattivo film per quanto riguarda la risposta alla seconda domanda quanto influisce sulla carriera di un compositore sbagliare uno o più score la risposta è un pochettino più complessa ovviamente adesso vi direi una cosa che neanche Messier della Palissa avrebbe mai detto ma abbinare il proprio nome a un film di successo è meglio che abbinare il proprio nome a un film che è stato un fiasco detto questo quanto ha cambiato avrei sbagliato questi due score nella carriera di John Barry ovviamente assolutamente zero evidentemente era John Barry prima è stato John Barry l'annus horribilis ed è ancora John Barry oggi che è morto per cui a quel livello non cambia praticamente nulla a meno che è uno non in anelli una serie di clamorosi fiaschi uno dopo l'altro per quanto riguarda invece i compositori in uno stadio più embrionale della propria carriera vantaggi e svantaggi cioè il compositore tra una lunga serie di svantaggi che ha ne abbiamo parlato nelle tutte le puntate precedenti ha il vantaggio che raramente il successo l'insuccesso di un film vengono abbinati al compositore a meno che la musica non sia veramente particolarmente importante in quel film ovviamente per cui non è che un regista dirà ah no non chiamo questo compositore perché due film scorsi che ha fatto non sono andati bene semmai il rischio è non tanto commerciale ma di immagine detto in altri termini uno può fare anche un fiasco clamoroso se però lo fai in serie A il fiasco clamoroso quindi con una grossa produzione con gli attori famosi eccetera eccetera alla fin fine nessuno vedrà questa cosa come un vulnus per la tua carriera invece ovviamente abbinare il proprio nome a progetti sempre molto piccoli sempre low budget eccetera eccetera alla lunga porta il mercato a ritenere che tu possa fare e sappia fare e debba fare solo e esclusivamente quei progetti piccoli è ovvio tutti a inizio di carriera abbiamo fatto progetti con un budget che era più prossimo allo zero che al poco questo è normale ma diciamo che nel progredire e nell'avanzamento della carriera bisogna sempre fare molta attenzione a cosa accettare a cosa rifiutare con molta prespicacia molta attenzione e ovviamente un pizzico di fortuna che se c'è ci fa avere a volte più meriti di quelli che abbiamo e se manca ci fa scontare più colpe di quelle che abbiamo meritato bene naviganti ci vediamo settimana prossima con un'altra puntata di Colonne d'Ercole se volete alla prossima con un'altra puntata